A fine dell'ultima partita hai detto che l'Inter è favorita. Allora ti chiedo che cosa deve fare il Milan per superare questo gap? No, ho detto così. Ho detto che per gli altri l'Inter è favorita. Noi ce la vogliamo giocare. Qualsiasi avversario avremmo affrontato. Abbiamo eliminato il Tottenham, abbiamo eliminato il Napoli. Pensiamo di poter eliminare chiunque. Stiamo parlando di Champions. In Champions la squadra non ha fatto alti e bassi. Ha fatto un percorso eccezionale. Vogliamo provare a superare anche questo ultimo step prima di conquistare una finale di Champions, cosa che a tutti noi credo non sia mai successa. Quindi le motivazioni, la volontà, la determinazione, l'ambizione è al massimo. Questo assolutamente.